Nato a Tripoli, in Libia, ha da sempre lavorato in Italia. Inizia la sua carriera d'attore nel 1951 con il film Bellissima di Lucchino Visconti. Ha recitato in numerosi film come Il Camorrista nel 1986. Regia di Giuseppe Tornatore. Nel 1990 ottiene visibilità internazionale interpretando il sicario Moscan e il padrino parte terzo. Molte anche le partecipazioni a serie televisive come Distretto di Polizia nel 2000. Valeria Medico Legale sempre nel 2000.